L'Italia ha un problema con la depurazione, con conseguenze negative per le acque interne ed esterne. Ce lo ricorda l'Europa, con una multa da 25 milioni di euro più 165 mila euro al giorno per il ritardo nel metterci in regola e lo conferma Lega Ambiente, la cui Goletta è appena rientrata in porto con oltre il 30% dei campioni d'acqua raccolti fuori legge. Questa campagna è stata resa possibile grazie a 200 volontari e ha coperto 18 regioni e 37 laghi. I campioni di acqua fuori legge contengono soprattutto Entorococchi ed Escherichia coli di origine fognaria. Goletta Verde e Goletta dei Laghi conclude il loro viaggio 2022 con il risultato che purtroppo conferma la criticità della mala depurazione con un punto inquinato ogni 91 km di costa sul mare e con oltre la metà delle foci di fiumi e fossili risultati inquinati sui laghi. Un dato che ci chiede ancora fortemente di intervenire sui depuratori, di far sì che il mare e i laghi possano essere finalmente libri dall'inquinamento. Ma soprattutto con una proposta forte per andare verso le fonti rinnovabili, ovvero la discussione e il confronto sulle eoliche offshore che oggi rappresenta un'importantissima alternativa per liberarci alle fonti fossili e per compiere la transizione energetica pulita e concreta. Lega Ambiente ritiene che sia strategico investire nella transizione energetica per liberare il Paese dalla dipendenza dei produttori di combustibili fossili e diventare noi stessi produttori di energia attraverso le fonti rinnovabili come l'idroelettrico, il geotermico, l'eolico e il fotovoltaico. Energie che, grazie allo sviluppo tecnologico, diventano sempre più accessibili.